Buonasera ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli ebbene oggi è venerdì ci concediamo uno spazio anche di approfondimento culturale ma prima di presentarvi l'ospite di questa sera vi ricordo la mail per comunicare con la redazione del programma angolichiocciolaespansionetv.it e adesso metto le mani avanti presento l'ospite di questa sera vi confesso che sono molto emozionata lei è Silvia Zucca scrittrice buonasera 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 a tutti possiamo darci del tu certo perché io il suo libro l'ho letto e mi sembra quasi di conoscerti il libro in particolare di cui parliamo è guida astrologica per cuori infranti è praticamente un best seller dell'estate è stato in vetta alle classifiche promette molto bene anche all'estero è uscito se non sbaglio a giugno è uscito sì l'otto di giugno e quindi qualche mese fa ma continua diciamo a darmi qualche soddisfazione io peraltro l'avevo un po anticipato ai telespettatori perché noi abbiamo uno spazio di oroscopo qua in studio peraltro spero che il nostro franco cospes ci stia seguendo e magari per le previsioni di ottobre voglio commentare anche questo intervento scherzi a parte torniamo seri concentriamoci sul romanzo io l'ho letto d'estate e l'ho apprezzato molto perché è molto genuino parla di una ragazza sopra intorno ai 30 anni single non per scelta alice bassi che ha una vita la single di milano quindi con varie possibilità però caratterizzata molto all'italiana a differenza di single essere più famose vedi brittetons o carrie brescio lei ha una vita come potremmo avere tutte no quindi è facile identificarsi ci spieghi un po meglio come sei riuscita a delineare questo personaggio basandomi anche sull'esperienza personale un pochettino anche se poi appunto alice è un personaggio di carta un personaggio di finzione però dall'esperienza un po mia anche quella delle mie amiche non avrei potuto scrivere di un personaggio estero perché la mia base diciamo di partenza è comunque quella di essere una donna che è nata e cresciuta a milano quindi non corrisponde diciamo la sua vita a quella che è la vita effettiva di tutta una serie di persone di donne che vivono in quest'epoca nella in lombardia nel milanese ma in realtà anche un po in tutta italia perché tante persone che hanno letto mi hanno scritto poi dicendo che si sono un po riviste e quindi c'è anche una certa italianità molto più forse che regionalità nel romanzo e niente forse la sua forza proprio anche quella di essere proprio una persona molto normale non ci sono delle sfumature esagerate o delle propensioni che non chiesano da quella che è la realtà di tutti i giorni quindi facilita molto lì medesimazione e la trama è doppiamente legata a questo tema dell'astrologia ci spieghi un po meglio come l'hai creata senza svelare troppo ma come è nata l'idea l'aneddoto è un po quello di aver subito in un certo modo anche delle delle rotture o comunque delle delusioni amorose quando ci si trova appunto a fronteggiare una delusione come capita appunto anche a cari breccio per esempio ci si confronta molto con le amiche e c'è sempre poi quell'amica o anche più di una che ti chiedono appunto ma perché lui di che segno era era viene fuori che non andava bene perché era scorpione non andava bene perché era cancro ce n'è sempre una e quindi la cosa mi ha fatto abbastanza riflettere mia e mi sono detta ma chissà come sarebbe un libro che ha come tema come base la ricerca dell'uomo perfetto dell'uomo ideale tramite l'astrologia e questa è stata un po appunto l'idea di partenza su cui si è sviluppato il romanzo me lo sono sempre figurato come un romanzo molto ironico perché ovviamente non si può prendere l'astrologia come qualcosa di dogmatico e affidarcisi completamente ma la domanda era e se una persona davvero lo facesse invece se una ragazza donna disperata ormai senza diciamo alla frutta non sapesse più a che santo votarsi e usasse l'astrologia cosa ne verrebbe fuori e questo è stato poi appunto alice le sue avventure ma peraltro confrontandoti con le amiche qualche segno zodiacale viene salvato e poi dalla esperienza mia l'esperienza di alta alla fine il giro lo fai tutto quindi basandosi semplicemente sul senso zodiacale poi appunto nella nel libro ci sono inframmezzati ai vari capitoli le descrizioni di questi segni che ho voluto veramente interpretare volutamente in modo molto negativo ma in modo ironico e soprattutto appunto dalla dal punto di vista maschile anzi dal punto di vista femminile verso verso gli uomini e quindi non se ne salva neanche mezzo però è ovvio che se dobbiamo dare retta all'astrologia non c'è appunto solamente il segno zodiacale o un segno zodiacale perfetto ma bisogna guardare in realtà il segno e il corrispondente quadro astrologico diciamo che più si avvicina diciamo più si congenia quello che è in realtà al nostro questo poi che alice pian piano scopre all'interno appunto della storia che non si può banalmente dire adesso io sono bilancia come come alice dice allora bilancia va bene con la riete no perché poi dopo quando esci con la riete scopri che ognuno ha un suo ascendente ognuno ha il suo tema natale e così via quindi le cose sono effettivamente complicatissime e quindi si capisce un po che sei anche appassionata di oroscopi in realtà è stata più l'idea che mi ha portato ad appassionarmi ci io volevo scrivere questo libro quindi da praticamente quasi inconsapevole una normalissima diciamo donna che come tante altre sfoglia l'oroscopo sfoglia appunto quello che magari viene pubblicato sui giornali su qualche sito e guarda il suo segno da lì in poi appunto avendo avuto quest'idea mi ci sono impegnata a studiarlo eccetera poi è vero che il libro è stato fortunatamente anche corretto da una persona che si intendeva io ringrazio la nord di questo perché nonostante simon che poi appunto di simon and the stars abbia corretto dicendomi anche non mi ha tirato le orecchie mi ha fatto una pacca sulla spalla però non male quindi ho detto comunque il mio lavoro è stato piuttosto ben fatto diciamo però qualche cosa è stata corretta il tiro è stato aggiustato in alcune cose a qualche quadro astrologico è stato modificato e devo dire che è stata anche una cosa molto interessante perché a me piace sempre quando riesco anche a lavorare con altre persone che mi diano dei punti di vista diversi sulle cose e quindi diciamo adesso sono un pochino più esperta e anche molte amiche molte persone quando adesso mi conoscono sanno che è uscito il libro e molti mi vengono a raccontare le loro storie mi è capitato anche ultimamente una presentazione mi dicono ma sai ho conosciuto io sono dell'ariete ho conosciuto un uomo del toro però mi ha fatto così penare diciamo è coinvolgente in un certo modo avvicina anche le persone da subito ci si trova poi un po' a a conversare come si potrebbe conversare poi anche di una partita di calcio appena finita ognuno poi dalla sua squadra perché se poi chiedi magari uno ti dice no non credo all'astrologia però il mio segno è più bello di tutti no e quindi è divertente devo dire che è divertente si si legge veramente molto bene peraltro devo confessarlo anche io sono bilancia quindi sono stata doppiamente doppiamente aiutata a identificarmi ma la domanda che poi a termine del libro mi sono fatta è quanto di te c'è in alice bassi c'è qualcosa di autobiografico e qualcosina sì perché ovviamente anche ogni scrittore in realtà attinge da qualcosa di personale è ovvio che quella che c'è dentro il libro non è la mia vita anche se come alice per esempio sono bilancia volutamente l'ho fatta così perché basandomi su un quello che poteva essere un po il mio carattere il mio modo di vedere le cose era più facile costruire il personaggio in qualche modo con seguendo anche quello che era il mio tema natale quindi all'inizio adesso è stato un punto dicevo un po modificato però era il quadro astrologico che che mi corrisponde e di mio c'è anche per esempio fatto che anch'io ho lavorato in una televisione per una piccola televisione per una decina d'anni questo anche anche questo mi ha aiutato perché dovendo già studiare molto astrologia perché in effetti non non avevo tutta questa base di partenza mi ha permesso di avere come ambiente appunto di lavoro e c'è molto in effetti nel libro la presenza degli studi televisivi di come di come si lavora e di qual è la vita in effetti al di dietro delle quinte appunto di una piccola televisione perché poi le grandi sono anche magari ci sono delle differenze e mi ha concesso diciamo di non dover studiare e approfondire tutta un'altra cosa che avrei dovuto iniziare anche quella da zero chiedere a qualcuno si fa così in effetti bisogna appunto arrivare a conoscere un qualche cosa molto bene per poterne poi scrivere in maniera logica certo e di altro vabbè ovviamente c'è qualcuno qualche personaggio appunto la migliore amica di alice un po corrisponde a quella che è la mia migliore amica nel libro si chiama paola in realtà si chiama patrizia insomma ci sono delle persone di corrente anche perché appunto è stato molto divertente quando lo scrivevo perché leggevo le parti che che scriveva questa mia amica e quindi era un primo riscontro anche per vedere se facevo sorridere o ridere con quello che avevo elaborato e lei mi dava questo riscontro un po appunto ha anche rinsaldato la nostra amicizia devo dire bello ma l'altro filone che poi si intreccia con il tema dell'astrologia appunto quello della televisione perché l'ambiente del lavoro e per il cinema alice farà un passaggio anche nel cinema lo possiamo anticipare perché non è svelare troppo ma soprattutto si capisce anche dalla terapia d'urto che mette in campo quando appunto deve affrontare qualche delusione qualche giornata no a una scatola con delle videocassette a cui è affezionatissima allora anche lì sicuramente è un tuo interesse perché poi i capitoli del libro ricalcano dei film noti sì 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 questo mi ha molto mi ha molto divertito appunto cercare dei titoli di film appunto anche vecchi un certo sì sì di una decina anche una ventina di anni fa che potessero però essere riconoscibili perché universalmente noti o comunque un pubblico italiano molto noti però rielaborandoli in chiave astrologica è una passione che effettivamente mi corrisponde perché come come fosse ho fatto dire anche ad alice ho fatto una scuola di cinema e quello che mi ha poi permesso di arrivare a lavorare in televisione quindi per un paio d'anni quando facevo l'università ho fatto in parallelo la scuola di cinema di milano e quindi l'approfondimento è stato quello e anche probabilmente il fatto di riuscire in qualche modo a dare mi dicono l'impressione di vedere quello che quello che è scritto di vedere delle immagini che scorrono anche senza dare troppe descrizioni perché volutamente non ci sono delle descrizioni fisiche più di tanto dei personaggi forse giusto 1 2 anno delle delle corrispondenze perché servono all'interno del del libro però deriva c'è questa questa possibilità da un impianto secondo me cinematografico lo studio magari di come si fa una sceneggiatura di come di quali sono i tempi ritmi del del cinema e vabbè poi alice ama molto un cinema romantico anche se un po se ne vergogna infatti lo nasconde sotto il letto io non ho la scatola diciamo come come a lei con le pellicole scottanti così ma le tengo direttamente in libreria e tanto non non me ne vergogno anche se poi accanto a quelle ci sono appunto anche altri film e devo dire che a differenza di alice se io sono triste o qualche cosa qualche rospo diciamo da mandar giù non guardo film d'amore guardo piuttosto film horror perché mi distraggono molto di più che una commedia d'amore che magari se proprio la questione è quella anzi mi fa un po girare le scatole quindi preferisco dove si ammazzano mi sembra un ottimo consiglio provate proveremo proveremo e peraltro adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità ma dovrà avere modo di darcene ancora di consigli perché silvia resterà con noi anche per la seconda parte di angoli qualche istante di pubblicità ma torniamo veramente troppo poco